Tutorial Arch Body Races, ottimo esercizio per andare a lavorare in modo completo con tutti i muscoli della schiena, gli erettori della colonna vertebrale e i glutei. Si esegue partendo con la pancia a terra, gambe unite, mani sotto al mento oppure braccia distese in avanti per renderlo un pochino più avanzato. Da questa posizione sollevare il torace e le gambe contemporaneamente fino a formare un arco andando a contrarre i glutei e gli erettori della colonna vertebrale. Mantenere sempre l'addome aderente al suolo, ispirare nella fase discendente ed ispirare nella fase di contrazione.